Perché Basim vuole uccidere Eivor? A causa di un rancore che risale alle loro vite passate. Eivor, infatti, è la reincarnazione del dio nordico Odino, mentre Basim è la reincarnazione di Loki. Nella trama della mitologia norrena all'interno del gioco, Odino imprigiona un lupo di nome Fenrir, ovvero il figlio di Loki. E dunque Basim, in quanto reincarnazione di Loki, è l'artifice del grande inganno di tutta la storia di Assassin's Creed Valhalla, mantenendo vivo il suo rancore nei confronti di Odino per secoli. Anche se inizialmente agisce nelle vesti di alleato e mentore di Eivor, trama nell'ombra e nutre il proprio rancore, pregustando il momento in cui potrà uccidere Eivor. Detto ciò, iscrivetevi al canale e voi siete Team Odino o Team Loki?